Sono Rubino Andrea, presidente della Rubino Immobiliare. Noi della Rubino Immobiliare mettiamo a disposizione della clientela la nostra esperienza che è dal 1979. Quello che ci differenzia dagli altri è la nostra organizzazione che è formata da oltre 40 agenti e collaboratori per offrire un servizio eccellente sia sotto il profilo prettamente commerciale ma anche soprattutto quello tecnico qui siamo nella nostra sede generale a Bari in via Beata d'Elia di San Clemente ex Viede Rossi in pieno centro a pochi passi dalla stazione centrale però abbiamo altre nostre sedi dirette a Barletta, Trani, Modugno e e Monopoli.